Ciao ragazzi, sono l'onorata Felicis, vengo da Roma e ho 21 anni e sono un'influencer perché riesco a farmi seguire e a far appassionare le altre persone delle mie passioni. Proprio per questo ho aperto un blog per facilitare le cose, visto che in tantissimi mi chiedevano in chat consigli sul make-up, sul fitness, di mandargli dei video, delle foto o quant'altro, quindi per facilitare le cose ho aperto il mio blog in modo che lì possano trovare tutte e quante le cose che interessano a loro, consigli sul fitness, make-up, anche sulle alimentazioni e quant'altro e spero che con questo programma possa appassionare anche a voi. Un bacio!